dove andiamo oggi? oggi andiamo su pisciadu sulla cascata due chilometri e mezzo andare a tornare quattro chilometri e si fa gratis senza biglietti senza nulla per chi è moscio forse ci sarà anche la seggio via per arrivare a pisciadu sulla cascata è una strada carrabile il bosco inoltre 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 ciao ciao Andrea no, Andrea no, Andrea no, Andrea no, Andrea hai messo bene il moschettone? no, Andrea 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 no, Andrea